Ciao dai Mike e benvenuti ad una nuova puntata della Trend Chart, la classifica delle 20 canzoni trends della settimana presentate da me e Mike ogni domenica qua sul mio canale YouTube. Questa settimana avremo due nuove entrate, la prima la troviamo subito alla posizione numero 20 e di Sad Ayub con Francesca Genco e si intitola Solitude. Grazie a tutti. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... All I see is you All I see is you All I see is you I close my eyes and all I see It's you All I see All I see All I see is you All I see is you All I see is you I close my eyes and all I see is you All I see is you La posizione numero 12 della nostra chart all 11 indice esa feel con Nord Alone Free Friends Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.